ciao nicolas grazie del commento e prova a risponderti con un piccolo video dove ti faccio vedere dov'è che vado a suonare il lick che mi hai chiesto in realtà è abbastanza una progressione prima sull'accordo di la stessa cosa fa sull'accordo di re questo un po' ecco è il gioco diventerebbe poi ok spero che tu abbia capito qualcosa magari non parli italiano a presto ciao